Si continua a sudare al Palafium in attesa dell'esordio in C-Silver per quel che riguarda la Santa Rita Basket per la prima volta in Serie C. Sarà una prima volta particolare anche per il capitano tarantino Arcangelo Sarli che parla dell'entusiasmo che c'è intorno alla squadra e il richiamo alla città e in particolar modo a quella legata alla palla spicchi affinché possa affollare il palazzetto tarantino per le gare interne e sostenere la formazione della Santa Rita Taranto. Per me per altri non è la prima volta che facciamo la Serie C, per la Santa Rita sì quindi c'è un grande entusiasmo, qui siamo tutti carichi, ci sono giovani, ci sono due stranieri e siamo pronti per affrontare il campionato di Serie C nel migliore dei modi.